20 anni un sogno che si realizza finalmente per Giancarlo Barretti. 18. Una grande emozione, un grande giorno, un grande inizio diciamo. Esatto, ora diventa il duro. Che cosa ci puoi dire? Quali sono i tuoi sentimenti per questa giornata e quali sono le tue, soprattutto, ambizioni concrete per questo? Bene o male vedo sempre Orvieto, visto che Montalto è il mare di Orvieto. Tutta la gente viene qui al mare, dunque è come se avesse fatto Orvieto. Senti, il progetto diciamo l'abbiamo presentato oggi. Che cosa c'è dentro questo plastico e qual è la prospettiva per questo territorio? 3000 posti di lavoro di giovane nella prima fase, 5000 nella seconda fase e 15.000 al regime. La prospettiva invece della burocrazia iniziale quando possiamo... Con l'accordo di programma firmato col Comune che adesso sta facendo proprio il Governo credo che tutte le cose burocratiche devono essere superate. Quindi diciamo vedremo Giancarlo Barretti imperatore di questa Roma-Vetus. 21 Grazie, come sempre concisa e previsca.